Allora, siamo in Chiosti di San Pietro, in una delle sedi di fotografia europea 2019 e al piano di sopra potete vedere una mia mostra che si intitola The First Day of Good Weather che è un lavoro realizzato nel 2013 ormai, quindi qualche anno fa ma che qui a Reggio Emilia è presentato in una nuova veste con un allestimento, delle stampe inedite e è un lavoro che racconta, che parla di lutto, di sopravvivenza, di come si va avanti e delle leve, delle strategie che si mettono in atto per superare un trauma. Il lavoro è realizzato nella regione del Tohoku, che è la regione distrutta dallo tsunami del 2011.